Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Far Cry 3 Nel anno come sempre Biazzi Lorenzo ed oggi credo che andremo qui, esattamente qui Allora, Matteo Zanfardino, Cristian Meziano, qui sotto scrivetemi nei commenti se vi piace questa serie che state vedendo E poi non vedo l'ora che sia veramente domani mattino, mercoledì Ho deciso che però proveremo un altro fucile Sì dai, prendiamocene i semi, mettiamo il mirino ottico Questo serve mirino di precisione Mh, mettiamocene il mirino reflux Eh, rimine, ah aspetta Ho cercato lo stesso perché noi siamo scemi e Giù, mi piace Lo mettiamo qui Adesso facciamo così Andiamo su munizioni Ed è molto ok Bello Guarda, si deve essere una buonissima, un piccolino Allora Un periode della sua banda si sono stabiliti su una collina nelle vicinanze Uccidi un pugnale con un vero rachia Ok E va benissimo il pugnale come una tradizione di un guerriero allora 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 non è arrivato un squad no no mettiamo questa da un po' che non usiamo non wevci a sottolinea no non wev scrivo che col ok non si usano eeeem hear me nice il sguardo hear me un'app Ia iaballi pepepe a ba bi bah baba Vida har in squirt ti dici fammi un bel regalino, grazie, è già finita, è stata rapidissima questa vabbè, adesso andiamo qui, per andare qui a fare questa ricerca ok, basta ok, basta, questa è una pistola, era esattamente una pistola, mi sembra la giustità, vendiamo subito tutto io, allora, apri la porta, ecco magari girati, oh, madonna che c'è stato lì, fatto che io, c'è veramente, allora, un tassidermista, un tapire dal ventre bianco, caccia l'uno con l'arco con l'arco, vabbè, tapire dal culatto bianco, dal culatto bianco, sì perché a ventre dovrebbe essere il culettino, la parte dietro, no, capirò, bene, no, 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 scambiamo, no, adesso abbiamo un primo peso, siamo un po' nella cacca, rega, butterò via questo, no, viene da un pochino è un pochino, l'altro, non ho paura questa cosa, però mi tocco a farlo, dov'è da pico da pire dai non non ti ho visto Non ti ho visto la mia vita, sembra la mia vita, allora io non l'ho impazzata così, ce l'ho fatto in giro, tutta la natura. Ma lui, vedete, c'è il vento bianco. Ma lui! Vieni qui, carne morsa, carne morsiccella. Ah! Allora, dov'è? Può colpirlo alla testa. Oh, madonna che azione, raga! Che azione bella. Non ci ho chiesto proprio quello. Maroni. È una mina che fa schifo, il veroio. Che cavo. Cioè, c'è tuffato, è morto da shock. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Fantastico. no che bocca di uscire c'è ancora il mio soggettino dai adesso il mio figlio per andare là no allora quindi non mi cuore super rosso non mi siano non è la super rosso non mi siano allora prendiamo in un stramme che tu guardi non 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 abbiamo non ci sono le occhie andiamo di qui un po' di cuore ora non so da rinascere mi sento che lei sa che velocità con il quad con il quad di Matt il coderno di Montemaglia io ho e poi il coderno di Vingole che c'è la cabella che è allora prima di tutto facciamo l'alla pul 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 il mio borso non si tirano le granate incendiarie eeeh eeeh cretino tino piccolo picci 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 ok adesso possiamo fare tutto il casino eeeh muori non da me mettiamo lo scetto con me eeeh eeeh muori va bene ragazzi credo che per questo episodio sia tutto spero veramente che vi sia piaciuto questa puntata perchè guardatemi non vedo l'ora che la vediate eeeh adesso quando trovo la casa base eeeh va bene il mio nome come sempre piatti Lorenzo raga eeeh eeeh niente noi ci rivediamo alla prossima puntata e ciao a tutti madonna vai piano eeeh